e buonasera a tutti e tutte ben trovati nello stand libri media produzione abbiamo appena sventato un uragano ma siamo tutti sani e salve e quindi abbiamo anche un po risolto i nostri problemini tecnici ciao elettra ciao rossella e saluto ovviamente anche alessandro senaldi che ci è venuto a trovare ciao alessandro tutte e tutti che sono presenti a chi ci sta ascoltando presentiamo un attimo alessandro alessandro è il curatore del saggio e dottore di ricerca in filosofia del diritto e storia della cultura giuridica all'università degli studi di genova rappresentante qui anche per gli altri due curatori luca alteri exenia chiaramonte e degli autori e delle autrice che ringraziamo e salutiamo da qui ma che libro presentiamo elettra parliamo un po del saggio che stiamo andando a presentare intitolato politica e violenza teorie pratiche del conflitto sociale un saggio colmo e pregnante serogeneo variegato in cui si attraversano molteplici epoche tematiche per chi è qui presente in studio è questo qui e ha una copertina davvero interessante facendo una veloce disamina nella prima parte che si intitola violenza e politica del diritto si parte dai riotturbani citando i gilets jaunes si arriva alla pratica dello sciopero sociale inteso come contropotere sociale perché non inquadrabile entro le categorie del lavoro formale e saraliato scomodando la criminologia critica di rash e kirkheimer si parla di fenomeno criminale come frutto di problematiche strutturali e sociali e si interviene a tratteggiare i movimenti sociali collocati in un minobio cosiddetto cosiddetto tra devianza e politicità la disamina prosegue il suo filone critico della tropologia criminale da l'ombroso coi suoi uomini pericolosi tipo l'anarchico sino a ferri per la difesa sociale nella seconda parte cos'è il terrorismo un focus obbligato al terrorismo in senso letterario e storico quindi violenza politica negli anni 70 del movimento antifascista militante e la lotta armata nella terza e ultima parte oltre alla violenza legittima si parla poi di polizia politica e l'uso legittimo della forza per il governo nell'ordine pubblico della violenza delle frontiere e infine a corredo di tutto ciò due esempi esterni el salvador e la colombia le strategie di lotta per superare il paradigma della violenza ecco grazie lettra per aver fatto questa disamina di tutto il saggio che è veramente molto eterogeneo e composito ma questo libro è nato anche grazie alla presentazione del vostro precedente saggio in un convegno che si è svolto all'università di genova due anni fa dal titolo violenza politica una ridefinizione del concetto oltre la depoliticizzazione partendo proprio da quest'ultima parola chiave che tra l'altro ritorna imponente nel corso del libro volevo soffermarmi su un qualcosa che mi ha molto colpito e che proviene ovviamente anche dalla tua pena dal tuo tratto Alessandro a chiosa del libro quindi partendo dalla fine un po' come fanno i destrutturalisti tu specifici l'importanza o meglio la necessità di un posizionamento citando Foucault il sapere non è fatto per comprendere ma per prendere posizione il vostro lavoro di fatto si colloca in quella categoria definita di scienza di parte abbiorando quella neutralità che vista come ben dici tu una sorta di peccato mortale proprio su quest'ultimo passaggio ti chiederei se ritieni ritenete visto che un lavoro collettivo di essere riusciti a prendere una netta posizione ideologica con questa pubblicazione e interconnessa a questa domanda come connettete normalmente il vostro lavoro di ricerca con questo ingombro slash risorsa da non sottovalutare in una società come quella dell'oggi che è riottosa sospettosa ad un posizionamento così netto. Innanzitutto di nuovo ringrazio i compagni e le compagne che hanno organizzato questo storico evento sono anche abbastanza emozionato e contento di farvi parte perché comunque se si vuole parlare e avere un occhio diciamo attento alla storia dei movimenti soprattutto alla storia dei movimenti organizzati di questo paese sicuramente non si può fare a meno di studiare quello che è il patrimonio comunque dell'autonomia operaia in tutte le sue declinazioni tra cui anche in quella diciamo veneta e non si può diciamo non consigliare tutta la stagione che ha portato per dire all'oggi quindi mi riferisco alla stagione dei centri sociali degli anni 90 e a tutti anche i movimenti di prima e la cosa che credo che per rispondere e venendo al discorso alle domande appena sollevate io credo innanzitutto che nonostante sia in rappresentanza anche degli altri curatori ci tengo a apprezzare che poi un prodotto editoriale ogni curatore ogni editore ci vede un qualcosa classicamente io Xenia e Luca ci siamo soprattutto io e Xenia ci siamo decisi a avviare questo percorso per una serie di esigenze al di là del posizionamento ideologico le esigenze chiaramente sono esigenze per un verso accademico per un altro militante anche semplicemente di onestà culturale e amore in un certo senso dei fenomeni per come si danno quindi da un lato c'era appunto il nostro interesse di sottrarre un po' la dimensione della politicità della violenza e quindi del pensare un impensato, una depoliticizzazione appunto perché per la nostra esperienza di criminologi ogni volta che viene si crea un episodio violento che ha dei connotati politici e magari dopo torneremo su questa questione beh quello che succede è l'immediato etichettamento da parte di chi ha il potere di definizione che quel episodio è violento, è criminale, è un reato non riconoscendo la legittimità politica dall'altra parte una cosa penso che pensare questo impensato serve anche non solo magari ai militanti e alle militanti più navigate o comunque magari nella loro storia hanno mantenuto anche banalmente per questioni biografiche il collegamento con un certo tipo di fare militanza io credo che la questione della violenza politica sia anche un po' un tabù un convitato di pietra all'interno dei processi di lotta e riposizionare questa questione in questo senso è molto interessante rispetto al secondo capitolo noi come l'abbiamo chiamato cos'è il terrorismo non è che l'abbiamo affermato abbiamo lasciato un punto di domanda appunto perché normalmente oltre al potere euristico e criminalizzante della parola terrorista che uno comunque adesso ormai dopo le torri gemelle l'ISIS immagina gente che taglia testa e non si immagina per esempio le persone che vanno a bruciare per esempio i compressori in Val di Susa terrorismo di fatto è tutto ciò che lo Stato il potere eccetera chiamo un po' il suo nemico emblematico per dire la reserve list che viene per esempio fatta sempre dove anche i compagni e le compagne kurde che combattono contro l'ISIS sono finite loro malgrado per esempio la Turchia considera terroristi i nostri compagni e i nostri compagni e dall'altra parte anche un po' di un discorso che sta un po' a cavallo tra queste due cose che è una questione di opinione pubblica nel senso che ormai la politica è fatta sempre più in un agone pubblico e in un certo senso noi abbiamo anche la necessità di legittimare anche alcune e riuscire a spiegare anche alcune forme di lotta anche radicali per quanto riguarda invece l'accademia la questione e dopo adesso vengo magari però questa è la premessa vengo un po' alle domande la questione accademica è comunque questo impensato si traduce in una concezione diciamo iper megafunzionalista della società dove tutti gli interessi tutti i gruppi sono diciamo amorevolmente d'amore e d'accordo e nella scienza manca totalmente questo piano manca un piano del conflitto del discorso che il conflitto non è un risultato della politica ma è alla base stessa della politica perché è alla base stessa della distribuzione della differente potere i rapporti forze differenti posizioni nella diciamo nella struttura e la sovrastruttura della società quindi il posizionamento ideologico io personalmente lo sentivo molto forte come questione magari gli altri due autori non sono sicuro però sicuramente era importante per me avere segnare il punto dell'ideologia e renderla centrale come riusciamo a farlo io credo quindi spero di per quanto mi riguarda rispetto alla prima domanda spero di aver appunto segnato il punto anche se l'idea nostra era più complessa più che posizionarti ideologicamente come riuscire a tenere dentro ricerca e militanza è un tema chiaramente o per meglio io per adesso non uso questa espressione in maniera convinta ma più per capirci subito tutti quanti tutti e tutte è il discorso un po' dell'intellettuale intellettuale che sicuramente appunto non è una figura che io personalmente mi rivendico però io credo che la figura cioè che una persona non possa sottrarsi dall'essere quello che è che è nella vita di tutti i giorni le parole di Foucault riecheggiano a sua volta le parole di Marx già nelle tesi su Feuerbach che già dava questa indicazione ma ancora in un certo senso ricalcano anche e qui per dire si ritorna per esempio a uno dei padri dell'autonomia conosce chi chi più veramente odia nel senso che solo attraverso diciamo un esercizio di critica radicale di posizionarsi da una certa parte si riesce a conoscere e a riconoscere la totalità io credo che quindi il livello sia duplice per come ci si deve come si dice per come si riesce a a unire queste due questi due ambiti il primo è una questione di etica militante ovvero un militante e un militante sempre anche in accademia anche quando fa ricerca non riesce a scindersi da quelli che sono le sue etiche e i suoi principi dall'altra parte io credo che ci sia anche un discorso io nel stato intellettuale e culturale questo per dire lo dice anche Bourdieu perché ogni volta che si va a fare una ricerca bisogna essere se stessi e bisogna dire chi parla e come parla e qual è il suo punto di vista lui parlava di oggettivare il soggetto che fa che fa ricerca e il terzo livello è chiaramente quello del mandato ovviamente l'intellettuale non si deve sentire o non deve essere qualcosa che si reputa come avanguardia come esterno come la possibilità di dare un indirizzo politico a chi fa i processi di lotta ma deve semplicemente essere strumento di questi processi e diciamo porsi al servizio delle lotte e soprattutto delle pratiche di lotta e cercare di tradurle visto che può perché diciamo è skillato con il linguaggio ha questa skill queste skill tradurle nell'opinione pubblica comune io adesso questa faccio e chiudo tipo a lezione faccio sempre questo esempio che spero che sia una metafora giusta quando uno vede io ho studiato la Val di Susa quando si vedono per dire quelle foto in cui o quei video in cui volano sassi eccetera la persona normale vede un sasso che vola e quindi si scandalizza il giurista vede un sasso che vola e ne legge un reato ma in realtà la persona onesta intellettualmente deve riuscire a riconoscere le parabole che descrivono quei sassi e quelle parabole in realtà ci parlano di principi ed etiche diverse che sostengono quelle traiettorie voglio fare il commento un po' vetero io nelle tue parole ci ho trovato non solo Gramsci ovviamente sulla questione dell'intuale ma tanto Lenin comunque sul concetto di avanguardia dell'intellettuale giusto un commento lascia a te l'altra domanda Elettra ecco prima ancora di entrare nel vivo della vicenda e quindi di parlare del nesso tra politica e violenza concentriamoci sul perché abbiamo la necessità di riavvicinare i due concetti del perché si sia creata una spaccatura tra diritto e conflitto allontanando così i moti collettivi dalla sfera giuridica a quando secondo te possiamo ricondurre storicamente questa divisione conflitto e diritto da una parte non sono accomunabili e dall'altra non sono scindibili nel senso che non sono accomunabili perché banalmente se si vede nella maggior parte questo non so chi lo diceva sicuramente un filosofo del diritto americano di quelli che fanno della propria logica funzionale il loro baruardo lui diceva se si vede diciamo nella maggior parte delle costituzioni di tutti i paesi non c'è una norma che legittima la presa del potere rivoluzionaria o come ti dice che si fa una rivoluzione giusta e legittima questo vuol dire che a prescindere in qualsiasi momento in qualsiasi passaggio quando si produce un livello drastico di cambiamento questo livello drastico di cambiamento non può avere una copertura giuridica semplicemente perché il diritto che può dare quella copertura ancora non è venuto in estera ancora non esiste appunto se si guarda a legna la rivoluzione il diritto che c'era prima non c'era dopo però quello che stanno facendo la presa del palazzo d'inverno sono abbastanza sicuro che è un atto illegale è tutto quindi da un lato questa cosa è importante nel senso che se noi ci aspettiamo che il diritto legittimi qualsiasi tipo di nostro voglia di protesta anche la più meno radicale nel momento in cui la protesta anche meno radicale agita in maniera disfunzionale a quella che è banalmente la struttura degli assetti di produzione allora viene reputata violenta anche se è un sit-in viene reputata violenta anche se è un picchettaggio di cancelli della logistica eccetera quindi forse questa ce la dovremmo mettere via nel senso non esiste finché non cioè so che poi non è bello parlare in questi termini perché non è che abbiamo la sfera di cristallo non siamo neanche in un periodo lontanamente pre-rivoluzionario però a prescindere chiunque di noi si trovi ammesso non con gesto che ci troviamo i nostri nipoti i nostri nipoti i nostri figli loro sapranno che non ci sarà mai un momento in cui il diritto dirà bene questa è la cosa che dovete fare per arrivare al vostro obiettivo dall'altra parte però non sono scindibili perché perché in realtà i movimenti in un certo senso il diritto lo usano almeno cioè lo concepiscono almeno su tre livelli innanzitutto è un discorso di controutilizzo banalmente questo per dire una cosa che sbagliavano i brigatisti a rinunciare a difendersi nei processi a nessuno piace andare in galera se viviamo in uno stato di diritto perché ma ben che malato che sia noi abbiamo la necessità di difenderci per evitare la scure stessa cosa nei processi di rigenerazione urbana oppure di partecipazione democratica noi attiviamo dei livelli di diritto per accedervi anche se sono ambivalenti quanto si vuole ancora di nuovo la val di Susa le barricate di carta che facevano che nominano proprio così gli amministratori locali erano del diritto amministrativo e azionavano i livelli del diritto amministrativo un'altra è un discorso di diritti come piano di discussione a me la parola diritto non è che mi dà fastidio in quanto tale dipende appunto che diritto è e il modo in cui lo pretendi per esempio banalmente i movimenti di liberazione nazionale dopo la colonizzazione che hanno diciamo cacciato i colonizzatori dalle terre non loro si puntavano sulla rivendicazione del diritto alla propria terra sulla rivendicazione cioè quindi su una rivendicazione di diritto però che cosa sosteneva quel diritto e se tende la lotta radicale e se tende la violenza politica era forse fondativo quasi costituente quindi un po' la modalità banalmente mi ricordo nel 2000 adesso non mi ricordo un po' di tempo fa forse 2011 quando si facevano ancora manifestazioni con gli scontri a Bologna facevamo abbiamo cacciato la polizia da Piazza Verdi perché di fatto volevamo fare banalmente un'assemblea che per diritto ovvero per un regolamento comunale non si potevano portare amplificatori in piazza questa cosa è sembrata talmente illegittima la maggior parte delle persone anche non attiviste di Bologna e di fatto ci fu una cacciata e il motto di quei giorni era i diritti a spinta 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 cioè nel senso è la cosa che sostiene l'unica cosa che effettivamente ai movimenti diciamo non piace per me è il diritto come concetto di questo diritto che adesso non è per essere vetero appunto però banalmente non c'è diritto senza chi col potere prende la possibilità di istituire quel diritto il potere si ottiene attraverso un conflitto che è il conflitto di classe che muove la storia quindi alla base di chi pone il diritto c'è chi vince il conflitto di classe siccome al momento mi sembra abbastanza tutto agli occhi di tutti che il conflitto di classe probabilmente ancora non l'abbiamo vinto quindi è un diritto che subiamo ed è un diritto che non possiamo fare in modo cioè non possiamo nascondere che è frutto di una mistificazione banalmente Baratta è un grande penalista italiano quando diceva il diritto penale andiamo a vedere com'è si presuppone che il diritto penale tuteli degli interessi su cui tutta la società si mette d'accordo ma di fatto gli interessi tutelati al diritto penale oggi quali sono? sono degli estrattivisti sono degli inquinatori sono dei colletti bianchi sono di chi di fatto banalmente la questione dei vaccini chi è che garantisce e tutela il diritto tutela comunque i potenti quindi denunciare sicuramente la mistificazione del diritto che non è frutto di interessi generali e condivisi è sicuramente un punto che i movimenti ma anche le persone innamorate della libertà dovrebbero dire a gran voce il vostro saggio l'avete denominato politica e violenza intitolato non violenza politica o forse per evitare il misunderstanding di un libro omonimo però magari dopo ci arriviamo però vengo per specificare che come dici tu a fine del libro la violenza normalmente viene sempre associata a un aggettivo o ad un complemento di specificazione la violenza di genere la violenza come ne parlava ieri Fumagalli proprio lì la violenza economica ma io vorrei soffermarmi in questo momento proprio sulla nozione di violenza to cure cioè che cosa si intende per violenza è una sopraffazione di forza quindi è un qualcosa di visibile o la violenza può essere interpretata anche come qualcosa di intangibile direi quasi citando anche Bauman qualcosa di liquido non tastabile hai parlato tanto di diritto da un punto di vista anche di un criminologo vorrei dire ma anche di diritto amministrativo e vengo al dunque veniamo da un anno e mezzo di gestione dell'emergenza pandemica in cui si sono intervellati miriadi di PCM molto fantasiosi molto tortuosi anche per le persone e una domanda un po' provocatoria può definirsi violenza anche quella conculcazione quindi l'eliminazione dei diritti per preservare un altro bene tipo quello collettivo tipo quello della sanità dell'incolumità pubblica cioè il bilanciamento tra diritti può definirsi un braccio giuridico uno strumento di potere istituzionale anche violento allora questa in realtà è un po' difficile nel senso che in realtà quando racconto questa aneddoto quando io ho scritto la prima versione del mio pezzo e quella frase era leggermente diversa era un po' diciamo un po' più superficiale e Xenia appunto mi ha corretto e mi ha detto ma in che senso questa cosa qua perché se Vicente se si va a vedere banalmente le difizioni sul vocabolario di suddizionale italiano emerge sempre che la violenza è un gesto che una persona fa nei confronti di un'altra per ottenere un qualcosa o coartarne la volontà però esiste anche la violenza sadica esiste anche la violenza fino a se stesse esiste tanti tipi il problema casomai è capire quando la politica non c'è nel senso nel senso violenza può essere allora violenza diciamo fatta senza no mi correggo nel senso che la politica in un certo senso però questa è un'elaborazione che sicuramente non è la mia però coinvolge la totalità delle sfere no quindi io non posso dire che banalmente la violenza per dire strutturale nei ghetti americani che ne so oppure nei ghetti migranti eccetera che magari è semplicemente una violenza strutturale di gruppi trapari che ne so stupri oppure anche rapine eccetera persone non si è espressione di una politicità a monte diversa perché appunto la politica è tutto tutto è politica la morte è politica l'amore è politica la violenza lo è anche quindi mi viene difficile da dividere le cose nel senso che anche a livello criminologico io non penso che la maggior parte cioè che per dire chi ammazza chi si macchia di crimini che tutti quanti sarebbero disposti ad ammettere come allucinanti ogni volta lo fa per un raptus di follia o perché è patologicamente disfunzionale eccetera ma lo fa perché la sua soggettività è stata prodotta così e anche quella produzione di soggettività è politica quindi banalmente la violenza sulle donne no la violenza maschile sulle donne o la violenza di genere ci racconta di questo non è che tutte le persone del genere ah se il poverino ha sbroccato no è stato prodotto così quindi forse è la violenza che non si può in un certo senso totalmente scrollare di dosso la politicità intrinseca di ogni cosa della vita però effettivamente la violenza può essere anche appunto sadica fino a se stessa in un non personalmente io non ne ho mai trattato studiato cos'è di questo tipo quindi quella parte lì però sicuramente ci sono degli episodi di violenza al di fuori da 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 un senso da un fondamento anche seppur lontano per quanto riguarda il diritto amministrativo allora cioè sperando che il discorso della violenza sia riuscito a rispondere perché comunque di fatto eh e per dire anche mh non è per forza una questione fisica è anche simbolica psicologica cioè banalmente ieri stavamo parlando di come contrastare un gruppo di preghiera eh pro anti aborto che si riunisce al 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 Sant'Orsola no anche se una preghiera fatta da da dei fondamentalisti cattolici all'interno è un è un è è violenza psicologica estrema fatta quindi definire il concetto di violenza però anche lì c'è una politicità cioè nel senso quindi è un po' mentre per il diritto amministrativo allora il diritto amministrativo innanzitutto forse più del penale si riporta quella quell'ambiguità per dire anche rispetto ai movimenti sull'uso del diritto nel senso che il diritto amministrativo è sia strumento di controllo banalmente quando uno ti dice tu puoi parlare di questo territorio cioè che ne so la conferenza dei servizi no classico strumento amministrativo ovvero c'è una grande opera qua a fianco chiamiamo tutti gli stakeholder che si siedono attorno al tavolo e parlano se si può fare o non si può fare normalmente è già deciso che si debba fare no? però chi decide chi si siede attorno a quel tavolo è una persona che ha il potere di definizione di esclusione e inclusione quindi è una forma di controllo è una forma di forse è la prima forma di controllo dire tu sì tu no cioè è la prima forma su cui si sostanzia il potere peraltro verso è uno strumento quindi il diritto amministrativo tendenzialmente ha comunque una certa carica di violenza e di disposizione sui corpi eccetera rispetto alla alla questione pandemica la questione chiaramente è duplice nel senso che se per alcuni versi ci sono nettamente cioè no la tua domanda la vostra domanda per me si articola appunto su due livelli nel senso che se per alcuni versi ci sono effettivamente delle questioni che a livello giuridico non tornano tantissimo no? tipo l'uso della sanzione amministrativa come uno strumento pre-penale cioè nel senso per dire banalmente il coprifuoco era tenuto da questa roba qui no? oppure il sistema dell'autocertificazione un giurista ti dice occhio che qui stiamo violando la riserva del diritto penale nel senso che tu emetti una sanzione al di fuori di un sistema giuridico eccetera che punta a punire e stessa cosa allo stato d'emergenza no? un amante della democrazia che adesso di questa democrazia che lo sono però nel senso un amante della democrazia ti direbbe dopo due anni e mezzo in cui c'è un'esaturazione de facto anche se comunque questa era una cosa il fenomeno dei decreti legge e dei decreti legislativi in sostituzione delle norme prese dal Parlamento è un fenomeno però adesso ha avuto appunto un'accelerazione e anche quello non ci va io penso che chiaramente però dei meccanismi e però su questo chiaramente parlo per me non posso parlare per altre persone dei meccanismi di gestione della questione andavano approntati è chiaro che anche lì la politica non è un raggiungimento di un ottimo politico nel senso la politica non è una questione tecnica razionale dietro delle scelte quale quella per dire di un attacco frontale alla libertà di movimento e di fatto all'autovalorizzazione al tempo libero delle persone è una salvaguarda degli interessi di convindustria di biggy farm eccetera ha in sé una visione del mondo cioè una persona che è banalmente poco poco un minimo contraria in un certo senso diciamo al sistema economico attuale sarebbe subito intervenuta a gamba tesa con la patrimoniale sarebbe subito intervenuta a gamba tesa dicendo ok noi a casa ci stiamo ma ci dobbiamo i soldi non vi preoccupate io a lavorare non ci voglio andare perché nessuno penso che voglia andare a lavorare basta che mi danno i soldi e poi anche perché quella è sempre alienazione quindi quello che non torna però per dire ed è questo è di difficile lettura da parte nostra capire come disinnescare la cosa è che nonostante le risposte ci parlino comunque di una visione neoliberale classica della soluzione di tutta la maggior parte delle questioni grandi eventi catastrofi pandemia la ricetta è quella neoliberale chiaramente dall'altra parte io credo che noi anche legittimamente noi come soggetti non noi come movimenti militanti abbiamo un po' sclerato no? abbiamo un po' perso la bussola perché per dire il discorso che tanto si porta avanti in un discorso sindemico e globale della libertà personale che io penso che noi non dovremmo affatto rincorrere no? è una cosa veramente pesante perché la tua libertà personale peraltro concetto che a mio avviso è estremamente borghese individualista perché la libertà o è collettiva o non è libertà a quanto mi riguarda si traduce da parte tua che sei avvantaggiato di vivere nell'occidente ricco che si può permettere i vaccini la sanità eccetera si traduce in mezzo mondo che ha 2000 morti al giorno quindi il discorso della libertà come i diritti devono essere come contemporati è chiaro che questo non deve essere un lascia passare totale una carta bianca a chi governa però all'altra parte non ci deve neanche fare peccare attraverso sicuramente un odio illegittimissimo rispetto a chi ha gestito questa pandemia non ci deve fare poi arretrare rispetto alla cura alla salvaguardia di tutte e tutte per dire banalmente in questa fase preferirei anziché banalmente rivendicare il mio diritto a fare aggregazioni un po' anche a base nichilista individualista eccetera nelle piazze rivendichi più al mio diritto ad aggregarmi per fare manifestazioni conflittuali come per esempio quella del G20 a Venezia siamo un po' in ritardo sui tempi quindi andiamo avanti no no questa è anche violenza Alessandra non voglio zittirti assolutamente però dopo abbiamo un altro dibattito quindi do la parola a Elettra per l'ultima domanda e poi ovviamente invito a tutti coloro che sono interessati ad acquistare il saggio politica e violenza che trovate in libreria tra le pagine del saggio si instaura questo ragionamento che a nostro dire è nevralgico e cito testualmente oggi assistiamo ad una sovrapposizione tra devianza e politicità ciò che è dotato di politicità fuori dall'ambito politico istituzionale è marginale e deviante oppure viceversa operando quindi una netta separazione ciò che è illegale e deviante non può essere politico venendo anche ad un taglio pratico scusami un centro sociale occupato un movimento disobbediente che si colloca fuori dalle dinamiche politiche attuali può realmente inserirsi nel politico o è costretto dalle visioni totalizzanti a permanere nell'angolo della devianza e come si scongiura questo legalismo che comporta una vera e propria depoliticizzazione del conflitto allora anche rispondere velocemente a questa domanda è difficile nel senso che la prima parte è quella che avevo detto un po' prima nel senso che c'è questo impensato che funziona un po' da struttura di controllo un po' delegittimando le azioni politiche relegando al lato della criminalizzazione e un po' funziona anche da non solo controllo dei soggetti ma anche produzione di soggettività generale nel senso che la gente oggi è abituata ad espellere la politica la propria esperienza di vita nessuno pensa ormai di avere una componente ideologica anzi quelli che vanno per la maggiore ormai sono i discorsi né destra né sinistra robe deliranti così da veramente da destra quindi quindi in un certo senso è questo credo che alla seconda domanda cioè la seconda questione si debba innanzitutto riprendere un po' l'insegnamento barattiano che puntava appunto a una politicizzazione della devianza ovvero da un lato vedendola come diversità perché la devianza è devianza rispetto a un concetto presupposto di normalità quando in realtà la pluralità deve essere totale dall'altra parte questa devianza deve essere ricondotta a sua volta se è vero che la devianza è decisa da chi ha vinto lo scontro di classe ed essere ricondotta e questo Negri in forma stato lo diceva abbastanza bene nel movimento di classe cioè nel senso la criminalità la criminalizzazione i devianti i propri criminali vanno ricondotti nel percorso della lotta di classe devono essere appunto politicizzati devono essere appunto perché non sono devianti poi è chiaro qua potremmo parlare delle azioni antisociali e che ci stanno antipatiche tutta tutta la serata però tendenzialmente la devianza posta così è un concetto di matrice positivista di matrice leguleia legalitaria noi dobbiamo proprio ragionare diversamente per quanto riguarda gli attivisti io credo che gli attivisti debbano fare esattamente quello che fanno ovvero diversificare in questo senso il proprio ambito di intervento però riprendendo anche ritematizzando e anche rivendicandosi la possibilità ad essere violenti ma non essere violenti senza senso però sapendo che appunto terrorista è ciò che l'appellativo che lo Stato dà al proprio nemico noi non dovremmo essere scandalizzati dall'essere chiamati terroristi devastatori eccetera perché è esattamente il gioco dell'etichetta che funziona così quindi noi dovremmo continuare a fare quelli che fanno iniziative di socialità quelli che fanno le marmellate con i bambini quelli che fanno la banca del tempo ma dobbiamo essere anche quelli vestiti di nero che mettono a ferro e fuoco la città questo è pesante ma molto bella e ovviamente qui da Scervo non possiamo che condividere assolutamente questo invito quindi ci vediamo tutti a Venezia questo applauso ecco ora facciamo un po' di concorso morale insieme senza alcun problema ovviamente di quello che abbiamo parlato oggi forse è il 15% di questo libro che effettivamente è molto molto profondo e ringraziamo te Alessandro che sei venuto appositamente da Bologna ringraziamo anche gli altri due curatori Luca Alteri e Xenia Chiara Monte nel frattempo in regia un disastro no e chiediamo ovviamente a tutti coloro che sono nel pubblico di restare perché successivamente ci sarà un altro dibattito un'altra presentazione del libro Il manifesto della cura per una politica dell'interdipendenza edizione Allegre con Maria Moise e Jennifer Guerra quindi invitiamo coloro che sono qui e i nostri radioascoltatori di Radio Sherwood di restare sulle nostre frequenze grazie Emilia Alessandro grazie Lettra grazie a voi e grazie a tutte e tutte e grazie all'invito prego tutti in libreria grazie grazie grazie